Ho visto questa sera, i miei compagni sono stati bravissimi, nonostante qualche cambiamento. La strada è quella giusta perché il capitano e il presidente sanno i giocatori, sanno chi sono bravi giocatori. Per il futuro sono molto fiducioso che non andrà come l'anno scorso, però sono sicuro che la vendita si farà valere anche quest'anno.